Guardate questa nazione rossoneira, una notizia urgente che è appena arrivata a Milano. I tifosi sono stati colti di sorpresa questa sera, nessuno se lo aspettava. Sei racconterò già tutti i dettagli di questa bomba che è appena arrivata direttamente da Milanello. Ma prima iscrivetevi a questo canale per non perdere nessuna notizia del nostro rubro negro. Il Milan è interessato a ingaggiare l'attaccante dell'udinese Beto e ha fatto delle richieste. Ma il prezzo richiesto è aumentato. Come riporta il gazzettino, Viare a Napoli, il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini si è informato nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell'affare prima dell'estate, quando la società dovrà investire in un nuovo centravanti. Lascia già il tuo like per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade al Milan obbligato. Tuttavia, anche il Napoli è interessato a ingaggiare l'attaccante portoghese. Quindi potrebbe esserci un'altra battaglia tra il Milan e i partenopei, oltre agli scontri sul campo in campionato e in Champions League. Beto potrebbe arrivare al Napoli solo se il club di Aurelio de Laurentiis vendesse Victor Osiman, un giocatore molto richiesto soprattutto in Premier League e con una valutazione di mercato ben superiore ai 100 milioni di euro. In caso di cessione del nigeriano, il club di Aurelio de Laurentiis avrebbe più forza finanziaria del Milan per puntare su Beto, visto che l'Udinese vuole 35 milioni di euro per la sua cessione. Iai fan del rubro negro secondo voi? Mettete la vostra opinione nei commenti perché è molto importante per il Leone. Sei aggiorniamo in qualsiasi momento con le notizie del Milan.